Una tragedia nello spazio che è costata la vita sette astronauti tra i quali due donne. Il tutto si è consumato in pochi istanti quando in Italia erano le prime ore del pomeriggio. Lo shuttle è esploso in fase di atterraggio. L'America è a lutto e George Bush è rientrato alla Casa Bianca da Camp David ed ha parlato alla nazione. Noi ci colleghiamo in diretta con New York dove c'è il nostro inviato Sandro Petrone per chiedere a lui le ultime novità, le reazioni, come sta vivendo l'America questo dramma. A te Sandro. Ci sono novità tecniche ma cominciamo da Bush che ha annunciato che il programma spaziale americano continuerà, non sarà fermato da questo incidente. Però la NASA ha fatto sapere che i voli sono congelati, sono bloccati fin quando non si capiranno le ragioni che hanno portato oggi alla tragedia. Cosa ha fatto disintegrare il Columbia quando in Italia erano le 15, le 9 negli Stati Uniti uccidendo i sette astronauti. Speriamo di capirci qualcosa entro qualche settimana. Ha detto il capo del programma Shuttle, Ron Dittmort, e ha spiegato in una conferenza stampa che il primo segno è stata una perdita di temperatura segnalata dai sensori del sistema idraulico dell'ala sinistra, 23 minuti prima dell'atterraggio. Seguito da altri problemi come la perdita di pressione di uno pneumatico per l'eccessivo calore della struttura. La perdita del contatto radio è avvenuta 7 minuti più tardi, cioè 16 minuti prima dell'atterraggio previsto nel Kennedy Space Center in Florida. Il capo della NASA, Oniv, ha dichiarato che non c'è nessuna indicazione che la tragedia sia stata provocata da qualcosa o da qualcuno a terra. Ma sono stati bloccati tutti i computer, anche delle società collegate con la NASA, a cominciare da quella che produce il serbatoio esterno. Si potranno così ricostruire tutti i passaggi. Un altro problema c'era stato in fase di decollo con il distacco di un frammento che aveva colpito proprio l'ala sinistra. Ora c'è la commissione della NASA che sarà affiancata anche da una commissione indipendente del governo. Altre risposte si attendono dai frammenti. Frammenti che sono caduti in un'area di 100 chilometri in Texas. Frammenti pericolosi anche perché contengono sostanze tossiche. Finora ci sono stati degli incendi di abitazioni ma non si segnalano vittime o feriti. Nel Kennedy Space Center è stato messo il primo memoriale per i piloti. E c'è da dire che questo è stato un colpo molto duro a quel sogno di realizzare un vero veicolo spaziale. Cioè in grado di atterrare dopo essere stato in orbita come una navicella nello spazio. Di tornare a terra come un qualsiasi aereo. Un sogno già scosso nel 1986 dall'esplosione del Challenger.